Solo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo emendamento, dicendo ai colleghi dell'opposizione che noi possiamo comprendere e su questo probabilmente hanno anche loro ragioni sul metodo di alcuni emendamenti che vengono presentati in Commissione Bilancio l'ultimo secondo, quindi su questo non c'è alcun dubbio che anche la maggioranza da questo punto di vista una riflessione deve assolutamente fare. Però l'invito che faccio è che tutto questo entusiasmo e questa visibilità che date al senatore Lottito rischia di diventare per lui un motivo di vanto, quindi anziché fare opposizione rischiate di fargli un favore se continuate a dire che lui può quello che tanti altri non possono. Quindi l'invito che faccio è usate con attenzione il vostro metodo di fare l'opposizione, così come se vogliamo in qualche modo far sì che la classe politica ritrovi un po' di credibilità, impariamo a chiamare le cose per quello che sono. Questa è una remissione in termini. C'è lo spostamento del termine per il versamento delle due rate, lo dico al senatore Manca, che è un senatore che segue le questioni in Commissione Bilancio, quindi dovrebbe conoscere bene la materia. Allora, no, no, un momento, no. Allora... Allora, colleghi, per cortesia, io... Colleghi, 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 si stava svolgendo, no, 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 sospendo la seduta per cinque minuti. Sospendo la seduta per cinque minuti. Grazie. Guarda, 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 guarda. Guarda a mettere. Io stavo cercando di mettere qua su un guaico. Sono a mettere la sospensione. Raccoglie, come raccoglierà e come ha fatto sempre, diciamo così, le informazioni più dettagliate su quanto è avvenuto in aula. Io ero intenta ad ascoltare l'intervento del Presidente Romeo e obiettivamente non era arrivato a questa Presidenza, a tutti quelli che sono stati a questo banco insieme a me, come dire, sentore. Comunque, come sempre, le segnalazioni vengono accolte. Sapete che questa Presidenza è sempre molto attenta, diciamo, al linguaggio. Ora, ora, sempre, sempre molto attenta. Ora, Presidente Romeo, se non ricordo male, lei stava terminando. Tra l'altro era un intervento molto... E' molto vero come cercare di far sorridere un po' l'aula, ma sentito un effetto, direi, totalmente contrario. Infatti, io ero molto attenta alle sue parole, devo... Sono quasi... Volpevolmente attenta alle sue parole. Sono quasi... Prego, la prego di concludere adesso. E comunque, in ogni caso, colleghi, la Presidenza ha raccolto tutte le informazioni. Se vi sono gli estremi di qualche cosa, state pur certi che verranno, come dire, sarà dato seguito. Ora, Presidente Romeo, la prego di concludere. Sì, era solo... Mi scuso, nel senso del mio intento era quello, come ho detto, di far sorridere l'aula, spiegando poi che non è un condono, ma è una remissione in termini, sostanzialmente dare la possibilità, per chi non ha fatto i versamenti a ottobre e novembre, di poterli fare entro il 18 di dicembre, senza decadere dai benefici. Quindi io dico, chiamiamo le cose per quello che sono. Poi, sul metodo, le questioni politiche, le polemiche, siamo sempre disponibili a comprendere e anche ad ammettere se c'è qualche questione che bisogna migliorare come maggioranza, facendo anche qualche volta autocritica. Insomma, evitiamo poi che venga fuori anche una lotta nell'aula, perché, insomma, l'intento era assolutamente un altro. Però chiamiamo le cose con il loro nome. Non è un condono, è una remissione in termini. Grazie. Per questo voteremo a favore. Grazie. Grazie, Presidente Romeo. Su questo termine condono è stato evidentemente scatenante sotto tutti i punti di vista. Allora, io non ho altre richieste di intervento. Senatore Borghi, era già intervenuta la senatrice Baita, quindi vorrebbe dirmi su che cosa? Sull'ordine dei lavori? Va bene, vi dica il titolo, però. Sull'ordine dei lavori? Sì. Bene. Presidente, io credo che non si possa passare sotto silenzio quello che è accaduto. Vorrei evitare l'attacco preventivo sull'atteggiamento tenuto dal governo in quest'aula. Va bene, ma su questo la Presidenza ha già dato, diciamo che esaustiva la chiusura che ha dato la Presidenza. Allora, io mi rimetto alla definizione della Presidenza. Ecco, rimettiamoci al buonsenso della Presidenza che ha compreso e anche alla stretta di mano che c'è stata qui in Aula. Su, andiamo avanti.